Torna il Linux Day, la giornata dedicata al software libero. Domani a partire dalle 9 nei locali dell'Università Grosseto prenderà il via un ciclo di incontri che avrà il suo clou con Fabio Massa, uno dei maggiori esperti mondiali di investigazione digitale. Carlo Velluttini. Una giornata tutta dedicata al software libero. Tornerà domani il Linux Day, l'iniziativa promossa dal Comune di Grosseto, dall'Associazione Guru at Work e dalla CNA di Grosseto. Una giornata che inizierà alle 9 nelle aule dell'Università di Aginori, mentre nel pomeriggio le lezioni si terranno nelle stanze dei servizi informatici del Comune. Un momento particolarmente felice per chi utilizza i software liberi, come confermato dall'assessore comunale Luca Ceccarelli, software che stanno prendendo sempre più campo sia nelle aziende che nelle pubbliche amministrazioni. Stiamo registrando, complice anche la crisi economica, un boom dell'utilizzo di software libero. Un boom che si basa su due cose fondamentali. Naturalmente la prima è la libertà di utilizzo, la possibilità di avere formati aperti e liberi e qui l'amministrazione sta investendo moltissimo per far sì che i cittadini abbiano accesso appunto a tutta quella che è la documentazione e le procedure del Comune con strumenti liberi. Dall'altra parte una consapevolezza maggiore da parte delle aziende e dei cittadini è che naturalmente dei costi di licenza che sono molto onerosi e che possiamo bypassare attraverso l'utilizzo di software liberi e gratuiti. Il momento clou della giornata sarà sicuramente quello dell'incontro con Fabio Massa, uno dei maggiori esperti mondiali in digital forensics. Massa ha lavorato nel RIS dei Carabinieri ed è consulente dei più importanti servizi di investigazione scientifica mondiali come FBI e NCIS. Quest'anno abbiamo degli ospiti molto importanti, importanti anche a livello internazionale. Ad esempio verrà da noi Fabio Massa che è uno dei maggiori esperti sulla digital forensics. C'è quell'attività che spesso vediamo nei telefilm e in televisione come potrebbero essere quelli più famosi dove vengono fatte le indagini sui crimini. Lui ha lavorato negli Stati Uniti con le più importanti agenzie, faceva parte in Italia del RIS e quindi racconterà la sua esperienza e parlerà di casi a cui ha lavorato. Grazie a tutti.